Qui non si tratta solo dell'Italicum, qui si tratta della riforma della Costituzione e della democrazia italiana. C'è il rischio di una divisione profonda, mi auguro che Renzi abbia la saggezza di evitarla. È chiaro che se ci fosse una spaccatura del genere, io continuo a essere assolutamente contrario alla scissione, ma a maggior ragione poi ci sarebbe bisogno di un chiarimento profondo nel partito, anche perché molti di noi pensano che questo PD stia facendo su Costituzione, democrazia, lavoro, fisco, cose per le quali non ha mai chiesto il voto dei cittadini, che sono estranei al suo programma, alla sua natura.